Dopo aver raccontato del mio rapporto con i quattro maestri italiani e i quattro maestri francesi, oggi parlerò del mio rapporto con i quattro matematici degli Stati Uniti, che sono Davide Buxbaum, Davide Manford, Robin Aschon e Oscar Zarischi. Davide Buxbaum, ebreo, un grande esperto di teoria delle categorie ed algebra omologica, nel 1965 avevo appreso accordi con una università di Parigi per trascorrere il suo anno sabbatico, però nell'estate del 65 passò dall'Italia e partecipò a un convegno che si svolgeva sul lago di Como, un convegno di matematica, qui ha conosciuto me, lui ha fatto un rapporto su una teoria che lui aveva sviluppato e si è accorto che io era l'unica persona che conosceva i suoi lavori e che era in grado di parlarne e allora ha preso una decisione eroica, ha disdetto il suo rapporto con Parigi e ha stabilito che l'anno sabbatico l'avrebbe trasferito a Roma, non a Parigi. Quando poi gli hanno chiesto, ma perché hai preferito Roma a Parigi? Chi c'è a Roma? Chi grande matematico c'è a Roma? E lui ridendo ha detto, a Roma c'è Mario Fiorentini, un professore di scuola media, con il quale io mi trovo molto bene, perché conosce le mie cose e mi aiuta molto. Inoltre è un grande esperto d'arte, perciò mi porta a Roma negli studi dei vittori e degli scultori, i miei bambini saranno molto contenti, abbiamo scelto Roma. Questo ha significato che, sotto l'anno accademico, lui riceveva l'Istituto di Alta Matematica e il suo rapporto di matematico era essenzialmente con me. Poi ha fatto però anche delle tesi. Lui era, noi abbiamo discusso su una problematica molto importante, le matrici quadrate, al confine tra l'algebra e l'algebra metria, le matrici quadrate, le matrici rezzengolari, i determinanti faffiani. Questa era una specialità che io conoscevo bene e che anche lui conosceva, perciò abbiamo lavorato insieme in perfetto accordo. È stato un anno bellissimo per me.